Ciao, sono Federico Pancera, sono insegnante di Madgroove della sede di Gattinara. Oggi vedremo la piramide dei Paradidol su ottavi, quindi la velocità non cambierà mai, ma cambierà solo lo sticking, quindi si parte dal singolo, poi si passa al doppio e poi al triplo. Ora invece passiamo alla piramide dei Paradidol in ottavi, terzine e quartine, quindi qua la velocità cambierà. Ciao a tutti e al prossimo video!